Un progetto importante, ambizioso, che sta regalando possibilità concrete di inserire nel mondo del lavoro i ragazzi Down. A Milazzo la IPD ha trovato sostegno di titolare della pizzeria Panza e Presenza, che hanno accolto Samuel e Michele ed hanno iniziato questo percorso di orientamento e formazione per giovani con sindrome di Down. Ho deciso di sposare questo progetto perché è giusto sensibilizzare comunque la società ed è giusto che ognuno di noi si approcci alla disabilità mentale e impari comunque a conoscerla e a gestirla. Quindi quale migliore occasione di inserire appunto questi ragazzi nel mondo del lavoro. Un lavoro continuo da parte dell'associazione Milazzo e Messina che ha l'unico scopo di dare tante possibilità ai ragazzi Down nel territorio. Il territorio onestamente sta rispondendo molto bene. Abbiamo sicuramente avuto delle belle soddisfazioni quest'anno, il 2015, perché siamo passati da 20 soci a 33 soci e quindi voglio dire il territorio ha risposto molto bene, si sono avvicinate molte famiglie che prima magari erano un po' dietro l'angolo e abbiamo pubblicizzato un po' la situazione e i nostri ragazzi in sede a San Marco fanno molte attività. Le persone con sindrome di Down sanno fare molte cose e attraverso questi progetti ne possono imparare molte altre. E siamo con Samuel e Michele che sono i due lavoratori che si stanno impegnando tantissimo in questo progetto. Iniziamo con la presentazione da Michele. Quanti anni hai Michele? 25. 25 e cosa fai qui? Faccio davo, faccio pane, pizza. E ti piace? Sì, tanto. Samuel, quanti anni hai? 24. 24, tu che cosa fai qui? Lavoro. E che lavoro fai? Camigliere. E che fai, servi tavoli pure tu, fai le pizza? Sì. E poi? Faccio pane, parecchio. Io so anche che sei un bravissimo musicista. Sì. E che cosa suoni? Batteria. Facciamo un saluto, mettiamoci tutti e due insieme, facciamo un saluto dalla telecamera, via, con la marina, ciao!